Le consultazioni continuano ma i punti chiave della Vibonese sono stati definiti. Dopo l'allenatore, il preparatore dei portieri, il club rosso-blu è pronto a calare il nome del direttore sportivo, l'uomo che farà da raccordo tra società e settore tecnico, con molta probabilità sarà Pasquale Gigliotti. Con il passare delle ore aumentano infatti le quotazioni del giovane DS calabrese che nelle ultime stagioni ha lavorato tra il Piemonte, la Liguria e la Lombardia, tra la Lega Pro e la Serie D. In Calabria ha fatto bene a Catanzaro e un paio di stagioni fa è stato vicinissimo anche a Vibo per poi emigrare al nord. La sua nomina dovrebbe arrivare nelle prossime ore ma il club di Via Piazza Darmi non ha fretta. In settimana in città sbarcherà Mister Di Maria, il nuovo allenatore rosso-blu presenterà il piano tecnico. Due gli aspetti fondamentali, i under e le riconferme. Per la linea verde si punterà su due fuori quota per ruolo, mentre tra i confermati la vivonese vuole tenersi stretto il capitano Cosenza, l'attaccante Allegretti e il jolly da Dalt, tre uomini graditi al mister. Ci sarà poi qualche altra riconferma in difesa, mentre sul fronte degli acquisti si fa il nome di Assenzio, centrocampista dell'Akragas. Un'idea affascinante ma di difficile realizzazione.